Sandy prende un taxi a New York City. La tariffa del taxi comprende un prezzo base di 2 dollari e 50 appena sali sul taxi, più 2 dollari e 50 per ogni miglio di viaggio. Sandy ha una banconota da 20 dollari, prende il taxi per 5 miglia e lascia una mancia di un dollaro. Quanti dollari le resteranno? Prima di tutto cerchiamo di scoprire quanto costerà questo viaggio di 5 miglia in taxi. Dobbiamo calcolare quindi il costo del taxi. Lo scrivo qui per bene. Ecco il costo del taxi. Saranno 2 dollari e 50 appena Sandy sale sul taxi più 2 dollari e 50 ogni miglio. Sandy deve percorrere 5 miglia, perciò 5 miglia per 2 dollari e 50. Aspetta un attimo, lo scrivo un po' meglio. 2 dollari e 50 per ogni miglio. Ecco qui. Quindi il costo del taxi sarà 2 dollari e 50 più 5 per 2 50. 5 per 2 dollari e 50 fa 12 dollari e 50. Quindi scriviamolo più 12 dollari e 50. 2 dollari e 50 più 12 dollari e 50 fa un totale di 15 dollari. Quindi il costo del taxi sarà di 15 dollari. Poi Sandy lascia anche un dollaro di mancia. Quindi scriviamo che il taxi più la mancia sarà uguale a 15 dollari più un dollaro, che è uguale a 16 dollari. Eccolo qui. E ora rispondiamo alla domanda. Quanti dollari rimangono a Sandy? Ricordiamoci che ne aveva 20. Quale sarà il resto? Sappiamo che Sandy paga con 20 dollari e che il prezzo del taxi e la mancia sono 16 dollari. Facciamo 20 meno 16 dollari. Sandy avrà 4 dollari e che il resto.